casa sanremo writers il salotto letterario di casa sanremo diamo il benvenuto a giulia mariniello ciao giulia grazie di essere con noi buonasera grazie mille per l'invito giulia è stata selezionata a casa sanremo writers quest'anno per la figlia delle comandante il prezzo della libertà pubblicato nel 2021 patos edizioni giulia è giovanissima 24 anni originaria di latina già da piccola giulia aveva questa passione per la lettura insomma iniziato molto presto ad avvicinarti alla lettura ma anche insomma la tua passione per i giochi di ruolo ti ha portato poi a realizzare questo libro perché i giochi di ruolo cosa avevano così di così speciale per te giulia allora il gdr l'acronimo appunto di gioco di ruolo era un gioco appunto dove si creavano dei personaggi non importa se erano maschili o femminili si creava una personalità di questi personaggi e dopodiché si creavano dei dialoghi con altre persone che creavano altri personaggi il gdr mi ha permesso anche di accrescere a livello proprio culturale la mia scrittura e soprattutto la mia fantasia per poter creare delle storie alternative e decisamente uniche come ho cercato di fare con il mio libro il libro è la figlia del comandante il prezzo della libertà è un fantasy giusto quindi rientra nell'ambito delle fantasy e parlaci un po della protagonista che si chiama galatriel ho detto bene sì esattamente galatriel nel libro è una ragazza di 20 anni è una giovane ragazza appunto ambientata che sta nel mondo immaginario è un mondo completamente immaginario dove ci sono delle degli uomini che in realtà non sono uomini e dico questo perché non voglio spoilerare chissà cos'altro è figlia del comandante appunto di un padre che inizialmente era un padre benevolo amorevole e poi a un certo punto è diventato aggressivo oppressivo con la figlia e anche con la moglie che è appunto la madre di galatriel e si chiama elisabeth elisabeth la mamma di galatriel è sempre stata la spalla sulla quale la figlia poteva piangere anche la mamma come inteso anche nel sottotitolo il prezzo della libertà pensava se fosse se fosse possibile sacrificare la propria libertà per la propria figlia così come sua figlia ha sacrificato la sua libertà per 20 anni questo perché è libero ambientato all'interno di un impero veramente tanto oppressivo che le ha costretta a restare dove l'hanno sostanzialmente sigillata in casa così come suo padre il comandante che le ha si è veramente imposto delle regole e non poteva conoscere ecco anche a livello culturale non poteva leggere non poteva andare oltre e quindi proprio per questo motivo il prezzo della libertà si intende come un libro per capire fino a quanto si è disposti a sacrificarne il personaggio della protagonista ha immagino anche qualcosa di te ti sei anche un po come dire ispirata a quelle che sono le tue vicende per per scrivere sì e no nel senso la protagonista ha un po di me in quanto è una persona un po anche impacciata come lo sono anche io però sostanzialmente è una persona dall'animo debole e forte anch'io sono un po dall'animo debole e forte questo sicuramente però ho preferito molto di più di staccarmi per creare appunto una personalità completamente nuova l'opera descrive diciamo tutto quello che vorrebbe una giovane ragazza di vent'anni tu scrivi l'amore di una famiglia una vita piena di avventure è così insomma è quello l'immaginario di una della protagonista sì esatto anche perché la protagonista è promessa in sposa a un uomo che non ama che non ha mai amato realtà il ragazzo in questione ha 19 anni mentre ne ha 20 e l'impero vuole che lui anche lui deve compiere i 20 anni per poter chiedere la mano della ragazza per questo motivo nell'arco di quest'anno lei cerca in tutti i modi di di fuggire di scappare da questa realtà che purtroppo andrà incontro e questo quindi sostanzialmente lei cercherà in qualche modo appunto la sua libertà e cercherà soprattutto di capire di di cercare di rapire l'amore di una famiglia che inizialmente c'era adesso non c'è più e soprattutto l'amore di un amico che purtroppo è andato perduto a causa di una guerra sanguinaria tant'è che anche nella trama l'ho descritto che è una ragazza purtroppo con tantissime difficoltà in quanto ha perso il suo miglior amico in questa guerra. Giulia come hai scritto il libro cioè nel senso quanto tempo hai impiegato e proprio materialmente sono curioso l'hai scritto al computer l'hai scritto carta e penna? Allora la mia passione per la scrittura è nata da quando avevo 15 anni a scuola in questo caso alle superiori quando gli altri a ricreazione andavano al bar oppure in altre classi io utilizzavo carta e penna anche perché all'epoca non avevo un telefono quindi digitalmente non potevo scrivere ho un rapporto più intenso con carta e penna rispetto a a un telefono eventualmente un tablet e alcune volte mi mi inserisco molto di più con il digitale in quanto posso magari inserire posso sottolineare in un particolare modo anche perché sono piena di colori a casa e appunto con la con il con il tablet posso fare delle cose che con il quaderno non potrei fare a livello diciamo di anni in quanto tempo ho impiegato a scriverlo più o meno un due tre anni all'incirca. Tu sei una delle autrici più giovani della nostra vetrina di quest'anno dobbiamo un po' sfatare il luogo comune che vuole i giovani poco interessati alla scrittura no tante volte si dice ai giovani di oggi hanno altri interessi non amano leggere non amano scrivere invece non è vero. No infatti assolutamente non è vero in quanto io mi sono cimentata nella scrittura grazie anche ad autori e autrici giovanissimi che avevano pubblicato ancora prima di me i propri libri ed è proprio grazie alla lettura di queste persone di questi autori giovanissimi che mi hanno permesso poi di scrivere perché è dai libri dalla lettura che ho imparato poi a scrivere. Certo insomma e poi si continua sempre a imparare no e quindi comunque c'è qualcuno in particolare che ti ha dato una mano però c'è qualcuno da ringraziare da questo punto di vista? Sì una mia amica tantissimi anni fa mi aveva regalato la saga di After l'autrice Anna Todd e il suo modo di scrivere mi ha incuriosita tantissimo tant'è che ha fatto un successo enorme non solo per la storia ma anche a livello di scrittura perché sono stati dei libri scorrevolissimi e quindi pensavo di attuare il suo genere di scrittura sia Anna Todd ma anche Jennifer Armentroth. In uno dei passaggi del tuo libro scrivi e se la morte fosse solo l'inizio raccontami qualcosa di più insomma di questa frase. Sì la frase in questione è se la morte fosse solo l'inizio della vita in quanto la protagonista entrerà all'interno di una stanza del del palazzo dell'imperatore e troverà una ragazza che apparentemente sembra che possa dormire in realtà no è una ragazza senza vita è una ragazza che somiglia tantissimo alla protagonista e da lì il lettore comincerà poi a comporre il puzzle piano piano per capire determinate situazioni di alcuni capitoli infatti nel libro ci sono dei capitoli che si intitolano ricordi o illusioni in quanto la protagonista i suoi vecchi ricordi da poco prima poco prima che lei aveva 15 anni non ricorda più appunto dei ricordi come se le fossero stati completamente cancellati dalla mente e quindi questi ricordi le arrivano immediati in determinate situazioni e questa ragazza appunto senza vita su questo letto di morte le farà comprendere il motivo per cui determinati ricordi sono stati cancellati dalla sua mente tu ami social network e li utilizzi li utilizzi anche per come dire la scrittura per farti conoscere come scrittrice sì esattamente anche grazie ai famosi hashtag che gli hashtag sono molto importanti in quanto raggiungono un vasto pubblico e poi appunto riesco anche a prendere qualche spunto da altre persone perché appunto come dicevi prima non si finisce mai di imparare io sono un po' boomer sono un po' anziano però mi piace molto questa tendenza di far conoscere i libri attraverso tiktok che esplosa negli ultimi negli ultimi tempi negli ultimi anni e quindi insomma questi booktoker credo che si chiamano cioè le persone che utilizzano anche i social network proprio per per far conoscere i libri far conoscere la scrittura sì è vero anche perché su tiktok ho conosciuto un libro che si chiama ancora una volta con te che fino al momento in cui non era spopolato su tiktok io non l'avevo mai conosciuto poi quando l'ho visto su tiktok e l'ho rubato praticamente le librerie è stato uno dei libri più belli che abbiamo letto a chi possiamo consigliare il tuo libro secondo te a una generazione sia piccola che grande quindi non ha età in realtà questo libro per tutti i ragazzi e ragazze e soprattutto a quelle ragazze che o ragazze in generale i giovani che pensano di non possono che pensano di non poter fare qualcosa che magari hanno un sogno nel cassetto aprite quel cassetto e attuate quel sogno perché è la cosa più bella che ci possa essere nella vita a me piace anche questa questa tua passione per i giochi di ruolo perché anche poi la dimostrazione di come attraverso l'aspetto ludico il gioco poi possano nascere anche ispirazioni artistiche importanti insomma anche attraverso quello che sembra essere più banalmente un passatempo per te credo aver capito è stato così no si è stato un passatempo ma allo stesso tempo appunto è stato anche un un'ispirazione completa e grandissima anche perché il gdr si può utilizzare si può fare in due modi diversi il primo è magari fare creare una storia programmata o anche non programmata quindi dato al caso ciò significa che possiamo creare dei personaggi io posso creare un personaggio femminile e tu maschile e poi possiamo dialogare con quel personaggio quindi creare una personalità di quei personaggi creare una storia e però i dialoghi devono essere molto descrittivi così come anche la descrizione magari di un cioccolatino che sta sul tavolo descriverli ogni minima parte e quello è stato sia un passatempo ma anche un insegnamento ecco tu sei già al lavoro sull'eseguito della figlia del comandante a che punto sei l'ho quasi finito e spero di pubblicarlo insomma entro fine 2024 oppure inizio 2025 insomma quando riesco tra lavoro e studio come lo stai scrivendo cioè l'idea era già completa oppure man mano che scrivi aggiungi capitoli aggiungi ispirazione diciamo che il libro un libro in generale non bisogna mai scriverlo a mio parere certo non bisogna mai scriverlo diciamo alla rinfusa ci deve comunque essere un programma per scriverlo poi durante la stesura se escono delle cose nuove perché magari c'è l'idea allora in quel caso ci scrive qualcosa in più altrimenti insomma si continua ad andare a sulla stessa retta via sostanzialmente quando scrivi la musica un ruolo utilizzi la musica ascolti musica mentre scrivi oppure ti distrae no no la musica è parte fondamentale per la scrittura perché non riesco a stare in silenzio la musica mi ha aiutato tantissimo in quanto quando devo descrivere magari una scena che possa essere magari triste utilizzo magari una musica classica prendiamo per esempio Ludovico Enaudi con nuvole bianche quella è la mia preferita per scrivere magari una scena anche malinconica se invece devo utilizzare devo descrivere una storia una parte di guerra oppure una parte agguerrita ecco utilizzo una musica diversa mai cantata cioè non utilizzo mai canzoni ma solo colonne solore o musica appunto senza parole ecco il cantato il testo ti distrae quello sì un pochettino invece visto che siamo a Sanremo inevitabile io ti faccio anche una domanda legata al festival ti piace il festival ti piace Sanremo ti piace questa edizione del festival sì 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 assolutamente sì lo seguo sempre ogni anno e c'è qualcuno in particolare per il quale fai il tifo direi Annalisa ok ok questa insomma la tua preferenza dal punto di vista dal punto di vista musicale quali sono i tuoi sogni nel cassetto quali sono anche i tuoi progetti per il futuro Giulia il mio sogno nel cassetto è continuare appunto a scrivere io vorrei diventare una scrittrice un'autrice affermata a tutti gli effetti purtroppo non si può vivere di scrittura o meglio per il momento non ancora però il mio sogno è quello proprio di diventare un'autrice a tutti gli effetti che non di diventare famosissima che oddio la gente quando mi vede facciamo le foto che sarebbe anche meraviglioso non dico di no però in particolare mi piacerebbe che le persone conoscano la storia che io scrivo perché ci metto tutta l'anima la passione il cuore e è proprio un progetto che ho anche a livello personale di soddisfazione personale è quello che ti spinge a scrivere insomma sì 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 è quella quella passione quel fuoco quando è che c'è un momento in cui che identifichi come l'inizio della tua passione per per la scrittura c'è un momento in cui hai pensato ma io da grande voglio voglio scrivere quando ero volontaria del servizio civile universale che il servizio civile universale si fa per un anno io l'ho fatto dal 2019 al 2020 poco prima che scoppiasse la pandemia e lì praticamente scrivevo dei comitati e degli articoli su un giornale che si chiama lazio sociale europa sociale e da lì dicevo cavolo sono brava devo continuare così e già visto che avevo già il libro non ancora pubblicato ho pensato sicuramente sarà uno spunto in più per poter continuare a scrivere e fare altro nella vita qual è il complimento più bello che hai ricevuto dalle persone che ti hanno letto insomma delle persone che hanno si stanno seguendo come come autrice sono state le recensioni soprattutto su amazon in generale insomma le recensioni dove capitano ecco dove tutte le persone che hanno letto il libro hanno detto che è una storia completamente diversa c'è un fantasy che si distingue dalla massa un fantasy che si distingue dagli altri fantasy ed è la mia soddisfazione più grande in quanto io avevo deciso di scrivere questo fantasy con l'intento di diversificarmi dalle altre persone io direi che ci sei riuscita e quindi in bocca al lupo sei giovane sicuramente insomma continueremo a seguirti anche in futuro visto che insomma speriamo davvero nel corso del 2024 di trovare un seguito per la figlia del comandante ha già un titolo oppure non lo possiamo ancora spoilerare volendo sì si chiama sempre la figlia del comandante però il sottotitolo cambia e si intitolerà dove tutto ha avuto inizio e allora noi continueremo a seguirti intanto grazie di aver chiacchierato con noi qui a casa sanremo of riders è stata ospite giulia mariniello grazie in bocca al lupo e a presto grazie mille grazie ancora grazie mille grazie a tutti